Via libera dal Consiglio regionale alle modifiche alla legge regionale 12 2022 per semplificare le procedure per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale degli investimenti complementari. Le modifiche alla legge che era stata approvata ad aprile si sono rese necessarie per effetto di una serie di contestazioni avanzate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo. Ma sono molto contento, per me si chiude un momento che è stato lì per lì fonte di grande arrabbiatura perché noi avevamo predisposto, lo aveva fatto il gruppo del Partito Democratico, era stata votata da ampia maggioranza in Consiglio, condivisa anche da forze politiche diverse la necessità di una disposizione legislativa che consentisse soprattutto ai comuni di avere procedure agevolate e accelerate nel momento in cui si presentavano opere connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come poteva fare un comune a presentare un progetto se doveva modificare un iter urbanistico quando spesso i bandi del PNNR, ne sono arrivati anche due stamattina, richiedono che questo progetto debba essere presentato entro 40 giorni. Quindi noi avevamo una legge di buonsenso che consentisse lo sviluppo di procedure in modo più accelerato. Qualcuno aveva gridato allo scandalo, si vuole modificare l'assetto urbanistico esistente, niente di tutto questo, si vuole adeguare alle esigenze dei tempi e alle semplificazioni che sempre più purtroppo la nostra burocrazia ci impone. Ecco che dopo aver approvato la legge in Consiglio io un giorno ricevo la telefonata da un'alta funzionaria della Presidenza del Consiglio dicendo guardi dottor Gianni che la vostra legge c'è da parte di personale ministeriale la richiesta che venga ad essere oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale proprio perché modifica l'assetto urbanistico esistente. In realtà in un primo momento mi sono arrabbiato dicendo ma voi governo volete che si presentano progetti del PNR presto e bene e poi non ci aiutate nemmeno a poterlo fare. In questo caso ecco che c'è stata con Roma un'interlocuzione, un pomeriggio di rapporti, di relazioni, poi siamo arrivati a una sorta di intesa ovvero il fatto che alcuni aspetti che potevano aver preoccupato noi li riportiamo in Consiglio, li approviamo e quindi la legge si adatta a una modalità tale che non viene più ad essere oggetto di impugnativa da parte del Governo. A mio giudizio ecco potrei concludere con la classica fase tutto è bene quel che finisce bene. Intanto sono contento che un impegno che avevo preso con il Governo per evitare l'impugnativa oggi l'Aula abbia deciso di accoglierlo e di approvare una modifica che serve sostanzialmente soltanto a rendere più chiara la legge. Sono state ore convulse negli scorsi giorni in cui interloquento insieme al Segretario Generale, agli uffici del Consiglio regionale con il Ministero del MIBACT avevo posto il tema della necessità di non impugnare una legge che serviva sostanzialmente ai comuni per poter realizzare le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più velocemente nel rispetto delle norme nazionali e quello che abbiamo fatto è la leale collaborazione ha portato poi alla modifica di questa norma che oggi è ancora più chiara e permetterà ai comuni di poter dare risposte più rapide ai cittadini e utilizzo migliore dei fondi del PNRR. Secondo me questa è buona politica e sono contento che l'Aula lo abbia votato praticamente all'unanimità con il gruppo di Fratelli d'Italia che non ha partecipato al voto. Oggi abbiamo assistito a un'inedita trattativa o meglio al racconto di una trattativa che c'è stata nei giorni scorsi fra il Governo e la Regione Toscana sulla base della legge per la semplificazione diciamo dell'iter che dovrebbe portare ad approvare i progetti legati al finanziamento del PNRR e dei fondi complementari. Di fatto il Ministero della Cultura ha rilevato una violazione delle garanzie costituzionali a favore dello Stato in materia di tutela del paesaggio perché le norme introdotte dalla Regione rischiavano di portare alla modifica del PIT con valenza paesaggistica cioè il piano di indirizzo territoriale senza appunto il coinvolgimento dei rappresentanti del Ministero sul territorio. Da parte del PD è stato detto no si tratta di un errore interpretativo sta di fatto e la legge viene oggi modificata in due punti concordati con il Ministero che raccolgono in parte anche delle osservazioni e delle critiche che noi avevamo fatto al momento del varo della legge. Per noi viene migliorata ma non vengono migliorate le ulteriori forzature che invece rimangono nei confronti dei comuni e delle province perché di fatto con la motivazione della disponibilità dei soldi si bypassa la politica locale per realizzare opere che speriamo siano davvero utili per il territorio ma che certamente avranno un impatto sul territorio stesso che forse i consiglieri comunali e i sindaci sono più in grado di altri di valutare. Ancora una volta per fare presto e bene si spera in realtà si forzano le norme che la stessa Regione per anni ha tenuto inchiodando l'economia locale. Sì è stata modificata la legge perché con il Ministero dopo un colloquio che c'è stato con gli uffici legali del Consiglio regionale si è ritenuto di evitare l'impugnativa da parte del governo e quindi di portare queste modifiche che per noi erano abbastanza ovvie però il Ministero ha chiesto che specificassimo che per tutti i lavori pubblici o privati che insistessero su terreni o territorio che erano vincolati dal codice dei beni culturali quindi insomma beni vincolati ci fosse il parere della sorrintendenza. Per noi era cosa abbastanza ovvia, l'avevamo scritto nel preambolo della legge che comunque il PIT è il livello più alto da rispettare. D'altro canto la Regione Toscana è stata la prima Regione a avere il piano paesaggistico quindi non è che possiamo essere noi a dire che non si rispettano le regole però il Ministero ha chiesto di poter specificare questa norma per noi non è stato difficoltoso anche perché non allunga i tempi la paura che avevamo era questo invece il parere della sovrintendenza quindi del rappresentante del Ministero dei beni culturali è all'interno della conferenza dei servizi quindi per noi si rispetta la legge, si rispetta la velocizzazione, si rispetta il nostro territorio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 22 voti a favore e 10 contrari la proposta di risoluzione sull'attività svolta nel 2021 dal garante dei diritti dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani nell'atto si ribadisce anche l'impegno ad assicurare la finalità rieducativa della pena il reinserimento sociale dei condannati l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali e la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno di tutte le strutture penitenziarie. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'attività del garante dei detenuti per l'anno 2021 e anche il programma di attività per il 2022 una relazione che ci offre un quadro del sistema carcerario toscano evidenza le problematiche dell'affollamento mette in luce le caratteristiche strutturali degli istituti di pena delle REMS e anche dei carceri minorili della Toscana e si concentra sul tema della tutela della salute dei detenuti del resto la vocazione del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà è proprio quella di prendere in considerazione la tutela della salute non soltanto fisica ma anche psichica della popolazione carceraria e il contatto che il garante ha con questo mondo viene anche dalle numerose istanze che vengono presentate dalla popolazione carceraria e presa in carico proprio dal garante il quale fa anche un auspicio un auspicio che i comuni che ancora non si sono dotati del proprio garante lo facciano al più presto anche in virtù di una più intensa collaborazione che il garante dei detenuti ha intrapreso con il provveditore regionale del Ministero della Giustizia con il quale nel corso del 2021 è stato proprio siglato un protocollo un impegno a implementare l'assistenza ai detenuti sotto il profilo della tutela della salute negli istituti di pena un impegno a prendere in considerazione la popolazione carceraria femminile soprattutto per la valutazione di misure alternative alla detenzione e anche un impegno congiunto con la prima commissione del Consiglio regionale che è quella di fare visita a tutti gli istituti di pena della Toscana la prima commissione ha già iniziato con la visita al carcere di Solliciano il carcere più importante e dal punto di vista numerico che abbiamo in Toscana proseguirà nei prossimi mesi con le visite a tutti gli istituti di pena del nostro territorio regionale Abbiamo votato anche quest'anno contro la relazione del garante dei detenuti la prima osservazione che mi viene da fare è che in sé la figura del garante dei detenuti è superata occorrerebbe una figura di tutela per chi opera e vive nel mondo carcerario al di là dei detenuti anche le guardie carcerarie e gli educatori sono figure che meritano anch'esse considerazione e tutela da parte delle istituzioni abbiamo votato contro la relazione del garante che troviamo non condivisibile in numerose sue parti in particolare per quanto riguarda quella concezione per cui sarebbe quasi la società malata a dare lo spunto, a creare le basi per la produzione di reati noi invece diciamo che la responsabilità penale secondo il dettato costituzionale è personale vero è che le pene devono tendere alla rieducazione di coloro che hanno commesso degli sbagli ma è il principio per cui chi sbaglia paga deve trovare finalmente attuazione anche nel nostro paese quindi sì, attenzione, tutela, soprattutto sanitaria quando invece sappiamo che ci sono dei rischi di ridimensionamento del servizio sanitario all'interno delle carceri nei confronti dei carcerati ma anche l'attuazione del principio chi sbaglia paga è un principio fondamentale perché nel nostro paese si tende troppo spesso a non far pagare a chi ha sbagliato Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge al Parlamento presentata dal gruppo Fratelli d'Italia che prevede che gli immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo L'atto introduce infatti la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire di questi immobili se in particolari situazioni di disagio con reddito non superiore a 36 mila euro e che non possano accedere al libero mercato alle graduatorie per edilizia popolare Io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana non soltanto per Fratelli d'Italia perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consigliare è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto e credo sia veramente un bel momento per la Toscana perché oggi il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati dalla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso ma oggi tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati dalla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata sappiamo bene purtroppo che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata di dissociarsi dalla criminalità organizzata di non sottostare al racket della criminalità organizzata sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione e quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di maceri o di cenere ebbene ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio dalla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza speriamo che il Parlamento recipisca questa proposta di legge anzi approfittiamo anche delle vostre telecamere per ribadire un altro concetto un invito a tutti i gruppi politici noi lo faremo con il nostro ma a tutti i gruppi politici a sollecitare i nostri parlamentari affinché prima della fine della legislatura calendarizzino questa proposta di legge e la trasformino finalmente in legge nazionale il Consiglio regionale ha presentato, ha deciso di approvare quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie in particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia di cui è l'articolo 416 bis del codice penale ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile non abbia ancora ottenuto ristoro con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone che sono persone che anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione è una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare per questo noi siamo d'accordo in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata lo diciamo forte e chiaro anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario economico quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza un loro significato abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento tra Roma e le regioni grazie a tutti grazie a tutti